Benvenuti a una nuova puntata di Agora Marketing. Abbiamo quest'oggi in studio con noi un ospite a cui do naturalmente subito il benvenuto, ovvero Fabio Torretta, General Manager e Marketing Director di Compagnie dei Caraibi Società Benefit. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Bene, allora Compagnie dei Caraibi appunto abbiamo detto nell'introduzione una società di Benefit, quindi strettamente collegata a quelle aziende che hanno a cuore anche le tematiche ISG. Che cosa vuol dire innanzitutto essere una società di Benefit e quali sono i vostri valori portanti? Essere società Benefit vuol dire in qualche modo prendere un impegno formale nei confronti della collettività, quindi integrare nel proprio modello di business una ricaduta positiva per la collettività, per l'ambiente, insomma per il resto del mondo in generale. Noi abbiamo fatto questa trasformazione in società Benefit l'anno scorso, subito prima del processo di IPO, quindi di quotazione. È stata una scelta, come dire, in qualche modo radicale per cercare di inserire all'interno dello statuto quelli che sono i nostri pilastri fondamentali, quindi quelle che noi abbiamo individuato come quattro aree di azioni sulla quale vogliamo andare a fare presidio. Le aree che noi abbiamo individuato sono quelle indubbiamente dell'ambiente, che oggi è un tema, come dire, imprescindibile per qualunque tipologia di business e in realtà il tema sul quale forse siamo in una fase più avanzata perché è da tempo che comunque ci muoviamo su questo tema, banalmente con un'autosufficienza completa dal punto di vista energetico. Noi produciamo con pannelli solari da tutto ciò che consumiamo dal punto di vista energetico, un'innovazione, una trasformazione della flotta aziendale in veicoli ibridi ed elettrici. Oggi abbiamo un 100% della flotta che è o elettrico o ibrido, quindi siamo un percorso che abbiamo iniziato tempo fa, tutta un'attività di ricerca e sviluppo che stiamo facendo sui materiali da imballaggio e così via. E questo è un tema. Il secondo tema che abbiamo inserito all'interno della statuto è quello invece delle persone, quindi del far sì che le persone che si trovano all'interno dell'azienda trovino un ambiente di autorealizzazione e di sviluppo individuale. Su questo ci siamo mossi in diversi modi, ci siamo mossi andando a creare dei piani di incentivazione che in qualche modo vede essere una partecipazione collettiva, quindi un azionariato diffuso, per cui sul 2022-2023 abbiamo impostato degli obiettivi, obiettivi che sono indubbiamente di carattere economico ma che anche qua innestano il tema ambientale perché siamo andati a inserire un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per milioni di fatturato, quindi cerchiamo di collegare poi tutti gli obiettivi e le aree di presidio una con le altre. Allo tempo stesso stiamo facendo partire in queste settimane proprio una call for innovation, quindi una possibilità per le persone che lavorano all'interno dell'azienda di proporre delle idee innovative che riguardino un modello di business o gli strumenti e poi fargli seguire questo processo di sviluppo di queste idee, in qualche modo lavora sia sul senso di appartenenza a questa iniziativa ma lavora anche molto sullo sviluppo delle competenze perché poter poi seguire l'implementazione e lo sviluppo di un'idea che è stata proposta in qualche modo aiuta anche alla crescita professionale. Il terzo tema che abbiamo individuato è quello culturale invece, sul tema culturale cerchiamo di sostenere iniziative legate al territorio, legate al territorio non solo al territorio dove abbiamo sede noi che è quello del torinese, ma al territorio in generale, quindi andiamo a individuare quelle attività che magari sono di livello leggermente meno noto rispetto alle grosse iniziative di carattere nazionale, ma che in qualche modo vanno a trasmettere un contenuto che è legato alla territorialità. Qui ci muoviamo su diversi aspetti, dal mondo cinematografico a quello letterario, a quello fotografico, insomma cultura in senso lato. O piuttosto come alcuni progetti che abbiamo proposto noi, che abbiamo attivato noi, come un blog che è collegato al mondo di Compagnia dei Caraibi, che si chiama Around the Blog, in questo progetto siamo andati a coinvolgere ovviamente una serie di autori che generano i contenuti scritti, ma siamo andati a coinvolgere anche degli artisti emergenti che realizzano per noi, per ogni articolo che esce sul blog, un contenuto visivo, quindi un'immagine, un disegno, una grafica, una creatività che in qualche modo diventa una vera e propria opera e che poi noi nel tempo abbiamo anche declinato su materiali differenti, quindi poster piuttosto che altri materiali fisici. Il quarto e ultimo ambito invece che abbiamo inserito all'interno dello statuto è quello della Gender and Social Equality. Qui abbiamo iniziato con un percorso di formazione, diviso su due livelli, uno per tutti quanti i collaboratori dell'azienda, l'altro invece per il management, quindi sulla gestione, sul tema dell'inclusione, il senso ampio e poi sul tema della gestione di persone. In quel caso il percorso formativo è stato organizzato con un'associazione di Torino che si chiama Cuore, che è specializzata sulle tematiche LGBTQI e con loro abbiamo affrontato questi percorsi formativi. Quindi sinteticamente questi sono i quattro macromondi e ho dato qualche accenno su qualcuna delle iniziative che abbiamo portato avanti proprio per garantire il presidio di tutte e quattro queste aree. Ecco sì, appunto quattro pilastri insomma della vostra realtà e toccano un po' diciamo tutti gli aspetti rilevanti nel mondo di oggi, cioè dalla sostenibilità ambientale all'inclusività. Quindi ecco, ti chiedo se in realtà ormai il consumatore nella società moderna, oltre ad essere legato al prodotto è legato anche ai valori che un'azienda riesce a diffondere e a sviluppare. Se anche voi insomma sentite questa cosa e siete legati a questo concetto. Sì, io credo che la maturità del consumatore finale sia molto alta da questo punto di vista. Noi oggi ci rivolgiamo a un mercato B2B, perché il nostro modello di business si rivolge a un mondo professionale. Ma quello che notiamo è che anche il mondo professionale sta sviluppando questa attenzione verso il tema della sostenibilità. Siamo fermamente convinti che oggi non possa più esistere nessuna azienda, nessuna realtà imprenditoriale che non metta il tema della sostenibilità inteso nel modo più ampio possibile al centro del proprio modello di business. E crediamo anche fortemente che nell'arco di qualche anno resteranno sul mercato solo quelle aziende che sono state in grado di fare questo processo di trasformazione. Quindi sì, lo riteniamo essenziale e fondamentale all'interno del nostro modello. Ecco, quindi la centralità appunto della sostenibilità, parola chiave, come parola chiave appunto diversity, inclusion, cultura anche, abbiamo citato. Mentre vorrei sapere il vostro rapporto con un altro tema centrale di adesso, la tecnologia. Allora, da questo punto di vista noi abbiamo iniziato un percorso di forte digitalizzazione dal 2018, quindi abbiamo sviluppato una serie di piattaforme proprietarie dell'azienda che lavorano su fronti differenti, sia sul tema della customer care, comunque dell'assistenza del servizio al cliente, sia su tutta la parte di formazione e di supporto continuo alla crescita del nostro cliente. Quindi da questo punto di vista sono tanti gli investimenti che abbiamo fatto negli anni e che continuiamo a fare perché in realtà è un mondo in continua evoluzione. Sicuramente l'asset digitale e tecnologico per noi è centrale rispetto al modello. Ecco, invece torniamo un attimo all'ambito della comunicazione perché voi vi muovete in un settore diciamo un po' particolare che è interessato da anche normative abbastanza stringenti. Quindi ecco che cosa vuol dire fare marketing per voi e su cosa fate leva? Sì, allora sì, effettivamente è un mondo delicato sul quale effettivamente le normative pongono alcune limitazioni. È chiaro che c'è un messaggio continuo da parte nostra, relativo al consumo responsabile. Noi abbiamo, noi siamo specializzati in un segmento premium di prodotti. Il messaggio che abbiamo sempre portato fuori dal principio è stato quello di favorire la qualità alla quantità, quindi l'orientamento è che dove effettivamente poi oggi il mercato sta andando, quindi un consumo più alto da un punto di vista di valore del prodotto e in minore quantità. Quindi sicuramente questo è il primo messaggio che portiamo fuori. Dall'altro punto di vista noi ci muoviamo poi su delle attività fisiche, quindi anche magari quando facciamo un sostegno a delle attività di carattere culturale, cercando di andare a inserire all'interno delle attivazioni che vadano proprio a trasmettere questa tipologia di messaggio. Lo stiamo programmando adesso per la fine di agosto su un evento che si svolgerà a Torino, è un po' diciamo un test pilota anche per una serie di iniziative che faremo proprio sul tema della sensibilizzazione del consumo e ci vede anche collaborare con una serie di partner locali e anche istituzionali come l'Asle, eccetera, proprio per riuscire a trasmettere questo messaggio di forte sensibilizzazione su questo tema, perché è chiaro che conosciamo bene gli effetti delicati di questo ambiente, di questo mondo. Certo, insomma, giustamente hai sottolineato l'aspetto della qualità anche del prodotto e rispetto invece alla figura del consumatore, come è cambiata nell'ultimo periodo, non solo nell'ultimo decennio, magari anche se ci vuoi raccontare come i social, se i social hanno influito appunto sul vostro ambito nella comunicazione e nel marketing, ma in particolar modo poi volevo concentrarmi proprio sull'ultimo periodo, quello pandemico e immediatamente post-pandemico, perché durante il lockdown sappiamo insomma che c'è stato un aumento dei consumi nel vostro settore. Ecco, insomma, su questo doppio binario che cosa ci puoi dire? Sì, allora una tendenza è sicuramente quella che hai accennato prima, no? Quindi negli ultimi 5-6 anni abbiamo assistito a una graduale premiumizzazione del consumo, no? Quindi il consumatore si è spostato verso un prodotto premium e questo è avvenuto indistintamente su tutte le categorie del nostro ambito merceologico. La pandemia ha influito sulla modalità di acquisto, quindi c'è stato sicuramente un grosso spostamento anche per, come dire, limitazioni fisiche, no? Del consumo dal fuori casa al consumo domestico. L'Italia è particolarmente sbilanciata rispetto ad altri paesi dell'Europa, è particolarmente sbilanciata sul consumo fuori casa, quindi mentre mercati come non solo la Germania piuttosto che la Francia hanno consumi molto orientati al canale off trade, quindi al consumo domestico, l'Italia invece ha una prevalenza di on trade, quindi un consumo fuori casa. È chiaro che l'e-commerce ha giocato una partita importante durante la pandemia, quello che abbiamo notato è che però gradualmente con l'allentarsi delle misure restrittive il consumo è tornato a orientarsi verso il fuori casa. Le previsioni di mercato in realtà davano tutto un forte rafforzamento dell'e-commerce o comunque del consumo domestico che c'è stato effettivamente e in parte è rimasto, ma abbiamo notato che in realtà come c'è stata la possibilità, l'opportunità, soprattutto il consumatore italiano è tornato a preferire il consumo autofomistico. C'è un senso diciamo di convivialità, di socializzazione, che viene meno altrimenti... Esatto, dopo la pandemia è scoppiato nuovamente, forse ecco anche nel periodo estivo questo si fa vedere, si nota in misura maggiore, assolutamente. E invece ecco, no, per quanto riguarda appunto i social, influiscono, come influiscono nel vostro settore per quanto riguarda il marketing? Ci sono delle campagne magari specifiche che avete ideato, che avete in mente? Influiscono sì, indubbiamente. Quello che abbiamo notato, quello che notiamo sulla nostra esperienza è che le attivazioni social, soprattutto magari se pensiamo quelle di tipo collaborativo con influencer, hanno un tasso di conversione limitato, cioè sono attività che hanno sicuramente una funzione importante dal punto di vista dell'awareness, quindi sicuramente sono fondamentali da quel punto di vista per lavorare sulla costruzione del brand. se vengono fatte in un'ottica di conversione diretta sull'acquisto è un po' più complesso perché l'alcolico premium non si presta molto a questa tipologia di acquisto da impulso, diciamo. Diverso invece appunto su un'attività di brand building vera e propria, allora in quel caso sicuramente è un canale molto importante. Ecco, l'ultimo aspetto perché tu hai accennato appunto alla diversità dei consumi in Italia rispetto all'Europa, oltre appunto a sottolineare questa diversità, c'è un qualcosa insomma dagli altri paesi, dall'Inghilterra, dalla Germania, insomma che sappiamo essere magari insomma consumatori forse più degli italiani in questo settore che riuscite ad importare una sorta di lezione o comunque di ispirazione che arriva dall'estero? Ma allora la situazione è veramente molto difforme da mercato a mercato, noi oggi abbiamo una presenza diretta nel mercato spagnolo, nel mercato tedesco perché abbiamo delle società in questi paesi e stiamo partendo anche con la società americana, quindi in qualche modo abbiamo anche dei presidi diretti in alcuni mercati, in altri invece lavoriamo con dei partner. La situazione è veramente molto difforme perché in Spagna c'è un consumo leggermente meno premium e più orientato a determinate tipologie di prodotti, determinate categorie, diverso discorso è per esempio la Germania dove come dicevo prima c'è un forte consumo domestico e così via. Quello che notiamo è, ad esempio è stato citato il Regno Unito, c'è una forte polarizzazione dei consumi per cui gran parte del mercato ruota attorno a Londra e i dintorni diciamo di Londra, quindi sicuramente un mercato molto diverso da quello italiano dove invece c'è una diffusione territoriale molto ampia, noi abbiamo dei come dire aree geografiche dell'Italia che sono molto forti, dal sud Italia ovviamente la parte dell'est eccetera, però insomma è abbastanza diffuso il consumo. Sicuramente c'è una cosa come dire che osserviamo sempre con attenzione e con un po' anche di stupore, ad esempio sul mercato francese dove c'è un'elevata conoscenza per i dark, i prodotti diciamo scuri, diciamo così, quindi tutta quella categoria di prodotti ha un livello di competenza e di conoscenza da parte del consumatore abbastanza elevato, cosa che in Italia non che non ci sia ma è un po' indietro rispetto al mercato francese. Ecco comunque il prodotto italiano, soprattutto premium, viene considerato come un prodotto di qualità del made in Italy a livello internazionale. Assolutamente sì, c'è un'alta percezione da questo punto di vista nel mondo, in particolare noi vediamo nel mercato statunitense in particolar modo quando si presenta un prodotto italiano c'è un livello di attenzione abbastanza alto perché c'è una percezione del livello qualitativo decisamente buona, quindi sicuramente ci fa partire avvantaggiati. E nonostante la concorrenza comunque sia alta, ha citato prima la Francia, ma insomma anche altri paesi, Sudafrica ad esempio, è un altro produttore. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione di questa intervista, grazie Fabio per averci fornito questa panoramica del consumo naturalmente ma anche della comunicazione, del marketing del vostro settore. Grazie per essere stato qui con noi alle fonti Aguara Marketing. Bene, allora ringraziamo ancora Fabio Torretta, General Manager e Marketing Director di Compagnia dei Caraibi Società Benefit. Questa puntata di Aguara Marketing termina qui, io naturalmente vi rimando a tutta la programmazione di Le Fonti TV.